Amo perché Dio mi ama. Cristo risorto, buona domenica carissimi amici. Oggi chiediamo il dono dello Spirito Santo per ascoltare le parole del Vangelo che questa domenica la liturgia ci propone. Siamo al capitolo sesto del Vangelo secondo Luca. È un capitolo dove Gesù si dona a noi e ci dà la regola d'oro. Ascoltiamola. Luca 6, 27, 38. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, a voi che ascoltate io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da a chiunque ti chiede e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici. Fate del bene e prestate senza sperarne nulla. E la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, poiché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvaci. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo. Perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Amen. Cari amici, capite perché ho detto prima di leggere questo Vangelo che abbiamo bisogno di invocare lo Spirito Santo. Perché le parole che oggi Gesù in questo discorso, ed è sempre il capitolo sesto in Luca, il discorso delle beatitudini. In Matteo è quello della montagna e abbiamo visto invece in Luca è un luogo pianeggiante, potremmo dire il discorso della pianura, in cui Gesù parla ai discepoli. Anche oggi, vedete, Gesù si rivolge a coloro che lo stanno seguendo, a coloro che ascoltano. Attenzione, non è un discorso per tutti. Ovvero, la forma in cui Gesù oggi viene a dirci la regola d'oro, a trasmettercela, cioè il contenuto essenziale del comportamento, dell'attitudine del discepolo di Cristo, che è l'amore, oggi lo vediamo che è proprio detto direttamente ai discepoli, a coloro che hanno deciso di seguire Cristo, coloro che hanno deciso di ascoltarlo. ma dirò molto di più, coloro che hanno sperimentato la morte e la risurrezione di Gesù, poiché questo Vangelo è stato ripensato, riletto, riflettuto, interiorizzato dopo la risurrezione di Cristo. E' importante, prima di parlare di che cosa oggi ci dice il Vangelo, è importante comprendere quali categorie abbiamo bisogno per leggere, ascoltare e accogliere la parola del Vangelo. E' fondamentale, perché se noi potremmo dire lo leggiamo a sangue freddo così, ci alziamo nel mattino o accade qualcosa di giorno, ama il tuo nemico, poiché Gesù sta dicendo quelle cose più illogiche, più irrazionali, più insensate che la natura umana mai farebbe, mai, abbiamo bisogno dello Spirito Santo, abbiamo bisogno di un incontro con Cristo, il Cristo risorto, il Cristo che dà senso alla nostra vita, poiché Gesù dice, fin dall'inizio, amate i vostri nemici, e usa il verbo agapao, non il verbo fileo. E il verbo agapao in greco non è un amore normale, perché l'amore normale, filantropico diremo, è fileo, voler bene. Sta dicendo molto di più l'agape, questo termine greco, che il cristianesimo ha preso per manifestare la forza dell'amore cristiano, che non è l'amore umano, che non è un amore generico, universale, amiamoci tutti, tutti siamo uguali, tutti abbiamo bisogno dell'affetto. No, l'agape è l'amore di Cristo, l'agape è l'amore di Dio Padre che è misericordioso, l'agape è l'amore che ogni cristiano che ha incontrato Cristo, amore, sa donare agli altri. E' necessaria questa introduzione, altrimenti noi immediatamente di fronte a tutta questa serie di azioni da fare, amare, benedire, perdonare, porgere la traguancia, dare, sono vane. E abbiamo un'altra lista, insieme a quella di Gesù, di dire, è facile, Dio, parlarmi così oggi, ma a me, guarda cosa mi hanno fatto la mia famiglia, guarda cosa mi hanno fatto ai miei figli, guarda cosa mi fanno al lavoro, guarda che cosa mi fanno in casa mia, guarda che cosa succede con mia moglie, guarda cosa succede con i miei figli, guarda con i miei amici, abbiamo un'altra lista. Ma fratelli, non siamo oggi qui a pesare. Se è più importante la mia lista, di tutte le cose che mi hanno fatto, che mi continuano a fare, del male che mi vogliono, o di quello che Gesù mi chiede, che non ce la faccio. Quindi, ecco, sono in questo dramma, in questa tensione. Ed è vero che siamo in tensione. Io oggi non mi vengo a dire che non c'è tensione. sto dicendo che entriamo in questo discorso in cui Gesù ci sta donando e porgendo il dono più grande che mai l'uomo potesse ricevere. la somiglianza con Dio. Il dono della grazia di amare come Dio ama. Di essere misericordiosi, versetto 36, come il Padre vostro è misericordioso. Questo è il dono più grande. Questo è il dono che come cristiani abbiamo nelle nostre mani. Ma poche volte esercitiamo. Dio ci ama in un modo illimitato, senza condizioni, gratuito. Ed è morto sulla croce, dice San Paolo, finché eravamo peccatori, finché eravamo i Suoi nemici, perché pensavamo male di Lui, perché L'abbiamo condannato. Dio ha dato la sua vita in Cristo, Suo Figlio. Così ci ha amato. E oggi trasmette ai Suoi discepoli questo. Quindi non è un comandamento di dire sei cristiano? Sì, ama il tuo nemico. Cioè non siamo a un catechismo superficiale. sta donando il dono che Lui è. Prima Giovanni 4 dice Dio è amore. Chi ama ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Ecco che Gesù dice voi state con me, sappiate che grazie allo Spirito Santo farete l'esperienza dell'amore. Perché lo Spirito Santo è amore. Ma abbiamo bisogno di una condizione, fratelli e sorelle. Di stare insieme a questo Agape. Che è Gesù. Che è la Sua parola. Che è Dio. Se io non sto con Lui, se non lascio che ogni giorno questo mio corpo, potremmo dire, sia bronzi dalla Sua luce, che la mia anima, che il mio cuore venga toccato dalla luce del Suo amore, io non potrò mai dare questo dono che Dio mi ha fatto. Questa grazia. Perché è una grazia. Potrei stare qui oggi e elencare. Ama il tuo nemico, fai del bene a quelli che ti odiano, benedici chi ti maledice, prega per coloro che ti tratta male. lo sappiamo quante volte lo abbiamo sentito. Ma noi abbiamo l'altra parte, la nostra vita concreta, le nostre delusioni, i nostri problemi, i nostri drammi familiari, le nostre durezze, l'incapacità di perdonare. Chiaramente, ormai sono due anni che predico qui su YouTube ogni giorno e quando ci sono queste esortazioni di Gesù e del Vangelo, io so già quanti scrivono è difficile, ma non ce la faccio, è impossibile, come devo fare, cosa... Ecco perché già sto rispondendo alle domande o ai commenti che farete, la risposta è questa. Se io amo, se io perdono, è perché per primo Dio mi ha amato, per primo Dio ha preso l'iniziativa, per primo Dio è stato misericordioso con me e allora il mio invito a tutti voi cari amici è di invocare ogni giorno, in particolar modo oggi, in questa domenica, la misericordia di Dio, invocare lo Spirito Santo che è uno Spirito di amore chiedendogli Signore, io vorrei essere misericordioso, vorrei non condannare, non giudicare, non brontolare, ma non ce la faccio da sola, sono così, non sono un super cristiano, un super eroe nella fede, non lo sono, allora umilmente ci mettiamo di fronte a Dio, invochiamo lo Spirito Santo chiedendogli la grazia che Lui ci fa di essere come il Padre, amare lo stesso modo, perché sappiate e questo è una parentesi ma importantissima che amare come Dio ama ci rende liberi, perdonare come Dio perdona ti rende libero, e non hai più ansietà, non hai più rancori, perché sei un uomo libero, Cristo sulla croce ha sconfitto ogni rancore, ogni durezza e l'amore che ha riversato su di te, il perdono su di te è lo stesso che poi tu e io daremo ai nostri nemici, a chi parla male di noi. li possiamo liberare amandoli e io per primo vengo liberato perché non ho più questo peso. Quindi ricevete questo bellissimo slogan amo perché Dio mi ama e potremmo continuare dicendo perdono perché Dio mi perdona, sono misericordioso perché Dio è misericordioso con me non giudico perché nemmeno Dio Padre mi giudica non condanno perché ho fatto esperienze che Dio non mi ha condannato non mi ha giudicato e sulla croce è morto per me e prego per coloro che mi fanno del male li perdono e voglio donare non voglio essere avaro verso chi mi chiede perché Dio mi ha donato il suo figlio e il suo figlio mi ha donato la sua vita e allora preghiamo in questo momento cari amici e diciamoli apriamo anche le nostre braccia come segno che abbiamo bisogno di mettere in pratica questa regola d'oro vieni Spirito Santo vieni Spirito Santo nella mia vita in questo giorno io ho bisogno di te riconosco che senza di te questo discorso che Gesù ha fatto è impossibile riconosco che se tu un'altra volta non mi fai sperimentare la tua misericordia il tuo amore il tuo affetto il tuo amore senza limiti senza condizioni ecco io non posso amare gli altri in questo modo ho bisogno di te ho bisogno di essere libero libero nel mio cuore nella mia mente nella mia casa nella mia famiglia vieni Spirito Santo Spirito di amore io ti invoco entra nelle nostre case entra con il dono dell'amore con il dono del perdono ma è l'amore di Cristo è il perdono di Cristo è la forza che ci rende liberi la forza che ci dà una vita più bella più gioiosa e migliore a te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli amè amici cari oggi riprendiamo e canteremo proprio questo salmo che dal lunedì scorso vi abbiamo proposto il Signore è buono e grande nell'amore così anche noi possiamo essere buoni e grandi nell'amore perché Dio ci ama grazie che mi avete accolto buona domenica ci vediamo domani ciao il Signore è buono e grande nell'amore il Signore è buono e grande nell'amore benedici il Signore anima mia quanto hai in me benedica il suo santo nome benedici il Signore anima mia non dimenticare tutti i suoi benefici il Signore il Signore è buono e grande nell'amore egli perdona tutte le tue colpe guarisce tutte le tue infermità salva dalla fossa la tua vita ti circonda di bontà e misericordia grazie a tutti grazie a tutti